Un incendio nella tarda mattinata di oggi ha interessato un'azienda che tratta la raccolta e il riciclo di rifiuti in località Matinella. Il forte odore ed il fumo di colore scuro è stato notato anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabio Lagarello, che stanno indagando per capire cosa abbia potuto provocare l'incendio. Presenti anche i caschi rossi di Agropoli per domare le fiamme. L'attenzione è volta ai cittadini residenti che temono eventuali rischi ambientali e per la propria salute.